Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Monosporio07, siamo qui per recensire la partita vinta, e sottolineo, vinta ieri dagli azzurri anche contro la Spagna, esattamente come nel 2016, l'Italia batte Belgio e Spagna. Davvero incredibile, ora manca solamente un tassello ragazzi che alla finale, perché questo europeo lo voglio vincere, sarebbe forse la mia prima grande gioia da tifoso, perché io sono tifoso della Juventus, con la Juventus ho vinto 9 scudetti, davvero bellissimi, ma non mi sono mai tolto la soddisfazione di essere più, diciamo, di essere vincente da tifoso, sempre, a livello europeo, perché con la Ferrari io seguo Formula 1 dal 2010 e dal 2010 a questa parte la Ferrari ha collezionato non so quanti secondi posti, ma mai la vittoria di un campionato mondiale di Formula 1, di un campionato in ognuna gara. La Juve ha perso, da quando seguo la Juve, due volte la finale di Champions League, ovvero dal 2012, da quando la seguo più appassionatamente, perché fin da piccolo ho sempre preso dalla Juve, però ho iniziato a seguire dal 2012, da quando avevo circa 8-9 anni, quando ho iniziato veramente ad appassionarmi di più al calcio, perché prima guardavo solo il Barcellona e Messi. Per quanto riguarda la MotoGP, la Ducati o Valentino Rossi, da quando lo seguo, non hanno mai vinto un mondiale, poi nel 2015 però ci sono andati molto molto vicini, e questa potrebbe essere veramente la mia grande gioia da tifoso, perché con l'Italia ho anche perso un europeo, perso, io, mica io, da tifoso parlo, un europeo in finale qualche anno fa. Quindi, insomma, ragazzi, è veramente bello vedere l'Italia in finale, ieri a fare i caroselli, i caroselli sarebbero quando suoni col clax, non so, dipende anche da dove guardate, perché alcune città vedo che manco sanno cosa significa caroselli, davvero bellissimo, ero anche con la mia ragazza, abbiamo urlato, fatto di tutto, veramente incredibile, un'incredibile serata, sia da tifoso, ma per tutto. Cioè, vedere questa razionale ti gaso, appena segna qualcuno, a parte che Chiesa, ragazzi, me lo sposo, la mia ragazza forse deve stare anche un po' attenta, perché non so se sono più innamorato di lei o di Chiesa, quindi, veramente incredibile quel giocatore, che secondo me ha fatto i due gol più belli dell'europeo, dell'Italia, almeno credo, perché ha fatto due gol veramente favolosi, tra l'altro decisivi, uno agli ottavi, perché se consideriamo i gol dagli ottavi in poi, Chiesa credo che sia il capocannoniere, perché ne ha fatto un insignia, uno barella, uno pessina e due Chiesa, quindi per farvi capire un po'. Tra l'altro, quest'Italia, su sei partite, ai regolamentari ha fatto quattro vittorie e due pareggi, che non sono poco, ragazzi, che non sono poco. Dei due pareggi, poi, una è stata vinta ai supplementari e una ai rigori, e una ai rigori, quindi, insomma, quest'Italia che, veramente, ha fatto un percorso straordinario. Anche l'Inghilterra, però, l'Inghilterra, credo che ora, con la Catania di Marca, sia forse un po' più avvantaggiata dalle avversarie. L'avversaria più forte che ha affrontato l'Inghilterra finora è stata solamente la Germania, per il resto l'Inghilterra non l'ho vista contro grandi potenze, a mio modo di vedere, a parte la Germania, perché anche nel giro nell'Inghilterra aveva poca roba, ecco, la Scozia, quindi, aveva veramente poca roba per me. Ora, noi abbiamo acquisito, sicuramente, la consapevolezza di essere forti, ma di essere veramente una nazionale forte in ogni reparto. Forse, se dobbiamo trovare, forse, un trono d'Achille è che non abbiamo una punta a punta, perché avessimo una punta a punta, ragazzi, siamo migliori. Infatti, Immobile, ieri, è stato corretto da Mancini e ha scaricato molte più volte il pallone alla Belotti, perché Belotti, a differenza di Immobile, se scaricare la palla, invece, Immobile va più per lui, perché è uno che va più sulla profondità, più sempre a cercare il tiro che si è di destra o di sinistra, e poi c'è quando va in contropiede, solo che nel 4-3 Immobile non lo vedo bene, infatti, è un po' un pericolo anche per la Lazio, perché ha raggiunto anche una certa età, forse, Immobile, se non mi sembra di 31 anni, e quindi devono stare un po' attenti, soprattutto se arriva a mettere Immobile in un 4-3. E vedo anche veramente bene l'Ital Futuro, bisogna vedere chi saranno i successori di Chiellini e Bonucci, perché a Cerbi, anche lui, è una certa età, Bastoni e Toloi, insomma, Toloi non lo vedo, tanto in dimensione da difesa 4, però Bastoni sì, Bastoni mi sta piacendo tanto, bisogna vedere se Caldara, Ruggani o Romagnoli si riprendono un po', perché comunque, nonostante tutto, Ruggani e Romagnoli sono due classe 95, quindi, insomma, hanno 26 anni, non sono male per un'Ital Futuro. Oppure lo stesso Caldara, anche se sta giocando poco ultimamente, ma Caldara sta facendo molto, ha fatto sempre molto molto bene quando è stato in forma. Donnarumma, anche, ce lo teniamo lì per 10 anni, non ce lo toglie nessuno, a mio modo di vedere, abbiamo anche i secondi e i terzi, perché Perin, Meret, Cragno sono comunque portieri forti, ed Emerson, devo dire che ieri mi ha stupito, ha rimpiazzato bene Spinazzola, Spinazzola sicuramente offriva qualcosa in più invene offensiva, però anche Emerson ieri non mi è per niente dispiaciuto, non mi è per niente dispiaciuto, e questa difesa, veramente, ragazzi, Donnarumma con l'Italia ha subito 18 gol in 31 partite, sono veramente poche, non mi ricordo se 18 o 16, comunque una cosa del genere, però subisce un gol in due partite in media, quindi una media veramente ottima, infatti all'europeo, e quindi non stiamo parlando di un girone di qualificazione, ma all'europeo dove incontri squadre forti, perché ragazzi, Belgio, comunque, Gales e Svizzera sono due avversarie medio-grandi, la Turchia è un po' più un avversario di basso livello, l'Austria è un avversario medio-grandi, e poi sono due grandi avversari, Spagna e Belgio, dove abbiamo subito solamente due gol in due partite, di cui uno sul rigore, quindi, insomma, forse il primo vero gol che abbiamo subito, perché con l'Austria pure lì era sul calcio piazzato, era calcio d'angolo, il primo vero gol subito è stato proprio ieri con la Spagna, quindi, insomma, raga, tre gol subiti in sei partite, in sei partite abbiamo fatto 12 gol, quindi abbiamo fatto veramente delle buone cose, ora però veniamo da due partite giocate ai supplementari, ragazzi, e tra l'altro sfatiamo anche il tabù della maglia bianca, perché finora l'europeo ha sempre vinto la squadra con la maglia bianca, io dico, speriamo, 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 invece l'Italia l'ha fatta la padrone, e ha sfatato anche questo mito, perché abbiamo veramente dei bei rigoristi, mi sono cagato sotto a rigore di Bernardeschi, però, meno male che è andato dentro, meno male che è andato dentro, abbiamo veramente una bella difesa. Ora, tra l'altro, dei marcatori azioni sono 12 gol, di cui un autogol, se non 11 gol, di questi 11 ne stanno di 5 giocatori che hanno fatto due gol, perché Chiesa, Insigne, Immobile, Locatelli, Chiesa, Insigne, Immobile, Locatelli e Pessina, hanno fatto tutti due gol, un gol lo ha fatto solamente Barella, perché l'altro gol è un autogol, quindi, insomma, tutti due gol per gli azzurri, anche se ero più curioso di vedere Belotti o Raspadori al posto di Immobile, invece sarebbe adottata la soluzione di Insigne e Falzoni. Ma va bene, abbiamo vinto, quindi Mancini ha ragione, alza le mani quando si vince, sapete come sono. Ora, infontriremo una tra Inghilterra e Danimarca, sono veramente curioso di quando andrà a finire, e anche ansioso di magari poter festeggiare, spero veramente di regalarmi una gioia, perché ragazzi, la Ferrari che da quando seguo Formula 1 ha fatto quanti secondi posti? 2010, 2012, 2013, 2015, 2017, 2018 e 2019, ha fatto sette secondi posti da quando la seguo, che sia campionato piloti o campionato costruttori, ha fatto sette secondi posti. Il MotoGP ho visto Valentino Rossi arrivare secondo per quattro anni consecutivi, che sarebbero 2013, 2014, 2015 e 2016, se non sbaglio, no, anche il 2017 forse, vabbè, comunque questi quattro. Per quanto riguarda la Juve, ha perso due volte la finale di Champions da quando la seguo, e l'Italia ha perso un europeo, quindi mi devo togliere, vabbè, la luce non ti devi togliere, mi devo togliere io lo sfizio di festeggiare una vittoria europea da tifoso. E va bene, ragazzi, detto questo, il video termina qui, spero che il video vi sia piaciuto, in giornata le pagelle, se il video vi è piaciuto, rimedite a lasciare un mi piace, se volete guardare un dislike, commentate se siete d'accordo, se siete accortati con me, se non l'avete ancora fatto, iscrivete al canale, in descrizione al link, per il sito di me in Instagram, Damoni Sport di 07 è tutto, e noi ci vediamo in un prossimo video. Bella, ragazzi!